Il ruolo dei musei, devo dire, il Museo delle Terre Nuove e il Museo della Basilica che rappresento è quello di far giocare i bambini, fondamentalmente si tratta di attività appunto ludiche, giocose e nel nostro caso riflettere sul valore anche religioso, se vogliamo, insomma di questa festa in riferimento alla commemorazione dei defunti e soprattutto alle figure dei Santi i Santi che sono rappresentati nei nostri quadri, infatti la prima iniziativa si chiama proprio Quadri da Brivido che purtroppo sono stati per lo più Santi i Martiri e che sono rappresentati appunto nei quadri con i simboli del loro martirio, quindi pugnali e ruose, diciamo dentase e petri dentati. Vogliamo far giocare e riflettere su questo i nostri bambini, anche perché insomma di martirio purtroppo se ne parla anche ora oggi e anche di martiri cristiani e mentre la domenica presentiamo delle letture, delle letture fatte dai nonni, letture da paura, letture molto brevi, quindi che siano immediatamente convolgenti, che rivolte ai bambini dai 5 ai 9 anni, volendo con le loro famiglie e in maniera da vivere la paura anche con un sentimento positivo. Grazie. 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 Grazie.